La settimana scorsa ho ricevuto due pacchi direttamente da MSI Italia che ringrazio pubblicamente per l'opportunità che mi hanno dato di testare due loro prodotti chi di voi mi segue su Instagram o su Twitch già sa di cosa sto parlando sto parlando del PC Desktop Aegis 3 e del monitor Optics Mag da 27 pollici con entrambi i prodotti siamo andati a testare i nostri giochi e siamo andati a vedere le specifiche dei giochi futuri che andremo a trattare per capire se possono essere una buona configurazione da usare allora partiamo dalle specifiche di entrambi così intanto vi fate un'idea di cosa abbiamo tra le mani i modelli Aegis sono i modelli quasi entry level di MSI dico quasi perché poi all'interno del configuratore anche l'Egis può diventare una bestia e dentro potete poi metterci quello che volete l'estetica è accattivante come avete visto anche su Instagram è un'estetica aggressiva che può non piacere a molti ma è una questione di gusti personali io per esempio preferisco gli oggetti più lineari e meno spaziali diciamo così però una volta montato e acceso fa comunque la sua porca figura su una scrivania questo PC è arrivato con una configurazione di fascia media della vecchia generazione quindi stiamo parlando della 1000 di scheda video dell'NVIDIA così come il processore che è uno Skylake un i5 di sesta generazione nello specifico è un 6400 che è un quad core con una frequenza base di 2,7 GHz ma che nella modalità turbo può arrivare a 3,3 GHz la scheda video che accompagna il processore invece è un NVIDIA 1070 base con 8 GB di memoria DDR5 anche di RAM non eccelle ed è arrivato con 8 GB di RAM base un hard disk allo stato solido da 250 GB ed uno storage da 1 TB in linea di massima è una configurazione abbastanza standard come vi ho detto è un PC con una configurazione di fascia media non andremo di certo a fare i benchmark di super prestazioni quello che andremo a fare come vi ho detto è quello di andare a provare questo PC nei nostri giochi e vedere come si comporta in primis Destiny 2 poi The Division ed infine vedremo le specifiche di Anthem e The Division 2 per vedere se è una configurazione che potrà reggere il salto generazionale passiamo al monitor adesso invece che è un Optics MAG271CR un monitor curvo da 27 pollici con un refresh rate da 144 Hz e un ritardo di 1 millisecondo è un monitor naturalmente in 16 noni con una risoluzione massima di 1080 quindi full HD il monitor devo dire che è di fascia superiore rispetto al PC i 144 Hz e il tempo di risposta così basso è decisamente ottimo per chi cerca le massime prestazioni l'unica pecca se vogliamo dire è la risoluzione che non è 4K ma non la chiamerei una vera e proprio pecca però uno schermo 4K a 144 Hz è decisamente importante soprattutto necessita di una macchina importante per arrivare a quei frame dunque cominciamo a parlare di prestazioni però e partiamo da Destiny 2 sappiamo bene quanto il porting di Destiny 2 su PC sia stato fatto bene e di fatto riesce a girare bene anche su PC più datati e meno performanti con prestazioni però di tutto rispetto questo è il caso anche di questa configurazione avviato il gioco le impostazioni sono subito impostate su alte con solo qualche settaggio su medio e la resa grafica è veramente notevole sappiamo come quando si è abituati a giocare su console soprattutto per gli FPS il passaggio su PC può essere importante dal punto di vista visivo il fatto che sulla versione PC di Destiny 2 c'è la possibilità di scegliere l'ampiezza del field of view che è quindi la possibilità di allargare il cono visivo aiuta ad avere una visuale migliore ed il tutto è aumentato dalla velocità dei 60 frame per secondo e dal diverso rinculo delle armi che per alcuni versi è decisamente minimo quindi così plug and play senza smanettare troppo sulle impostazioni il PC ha risposto subito bene ed è decisamente pronto a fare il suo dovere solo in alcune situazioni ho visto il contatore scendere sotto i 60 frame per secondo detto questo però abbiamo un monitor con un refresh di 144 e vale la pena quantomeno provare a sfruttare questo refresh purtroppo però rimanendo sempre ad una risoluzione di 1080 perché mi sembra stupido scendere sotto questa e con i settaggi tutto al minimo non si riesce a raggiungere quella soglia di FPS ma si guadagnano circa 20-30 FPS raggiungendo punte di 100 in alcuni punti del gioco ma ben lontani dai 144 sufficienti però questo fa notare veramente il lavoro svolto da Bungie nel porting del gioco che lo rende veramente piacevole da giocare quindi direi che una configurazione del genere per Destiny 2 se volete giocare a 60 frame è decisamente approvata passiamo a The Division e proviamo la stessa cosa che abbiamo fatto su Destiny 2 accendiamo il gioco e così com'è ci propone i settaggi automatici e su The Division proviamo a fare un benchmark all'interno del gioco al contrario di Destiny abbiamo un benchmark da provare e al primo ha dato risultati ottimi con i settaggi suggeriti ci ha portato ad avere una media di 60 frame fissi e puliti quindi esattamente come Destiny 2 The Division è un gioco più vecchio di Destiny in termini di sviluppo ma non è assolutamente leggero e quindi mi aspettavo sinceramente delle prestazioni peggiori su The Division ci sono decisamente più dettagli grafici che si possono cambiare e smanettare ma anche qui cercando di spingere il gioco al suo massimo non siamo riusciti a portare il gioco intorno ai 144 fps senza snaturarlo e quindi abbassare troppi i settaggi grafici e la risoluzione nel gameplay anche in ambienti incasinati con esplosioni e quant'altro ha tenuto benissimo senza scendere sotto i 60 frame per secondo e quindi anche qui direi che è promosso vediamo ora che ci aspetta per il futuro e vediamo le specifiche minime e richieste di Anthem per farci un'idea se può essere una configurazione adatta anche per i giochi futuri Anthem richiede come configurazione minima un i5-35-70 oppure una mdfx 6350 minimo 8 giga di ram e una gtx 760 con 2 giga di ram sappiamo come le specifiche minime siano proprio quelle che servono per far girare il gioco e basta quindi è capace che una configurazione del genere riesca a far partire il gioco e magari a giocarci non so a 30 fps o giù di lì con i settaggi al minimo eccetera eccetera la configurazione consigliata invece chiede un i7 4790 a 3.6 gigahertz o un corrispettivo ryzen almeno 16 giga di ram e una gtx 1060 da 4 giga qui abbiamo un paio di punti che ci tengono indietro il processore e la ram la seconda è gestibile perché portare un pc da 8 a 16 giga è decisamente fattibile cambiare il processore naturalmente è più complesso e potrebbe creare qualche problema noi con questo i5 e la 1070 dovremmo stare più o meno nel mezzo con queste specifiche potremmo far girare Anthem sicuramente però bisognerà vedere se sarà in grado di reggere i 60 frame per secondo cosa che è probabile ma sicuramente con qualche settaggio basso oppure qualche compromesso in termini di grafica passiamo ad edivision 2 che di prima a chitto sembra aver fatto un buon lavoro di ottimizzazione perché se guardiamo subito alla configurazione raccomandata per far girare il gioco a 1080 con 60 frame per secondo troviamo un i7 4790 8 giga di ram e una gtx 970 quindi noi siamo ben al di sopra almeno come scheda video ai requisiti raccomandati c'è sempre il processore purtroppo che rimane un po' indietro ma si va pubblicato anche la configurazione di alta gamma per il massimo supporto quindi il 4k a 60 frame per secondo con un intel i9 di ultima generazione minimo 16 giga di ram e una rtx 2080 ti da 11 giga naturalmente con i settaggi al massimo il che mi sembra anche corretto i9 e 2080 ti è l'ultima configurazione high end di questa generazione e massive fa bene a comunicare cosa si può raggiungere con quei settaggi tirando le somme come vi ho detto è un pc di fascia media che regge prestazioni di buon livello su destiny 2 e the division 1 con i giochi di prossima generazione potrebbe già essere un pelo indietro più su anthem che su the division 2 secondo me il monitor invece è ottimo monitor che potrebbe andare bene per quelli di voi che preferiscono la velocità alla risoluzione quindi gli hertz al 4k se vogliamo dirla spicciola quindi è una cosa personale e di come volete vivervi voi l'esperienza di gioco quel che è certo è che se volete spingere sulla frequenza di aggiornamento dovrete aver bisogno sicuramente di un pc che la supporti a dovere io ringrazio di nuovo MSA Italia per l'opportunità di avermi fatto provare questi due loro prodotti nella descrizione trovate tutti i link a questi prodotti appunto direttamente sul loro sito io spero che il video vi sia stato utile per capire le prestazioni di questo tipo di hardware sui nostri giochi preferiti se per caso state pensando appunto al porting fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre io vi ringrazio di aver guardato il video fino adesso e ci vediamo alla prossima ciaoone